Bello perché io ora, io sto per dire Dio pazza, però nel video ci sarà lui che fa Dio bello No, tu che dici Dio Dio bello SABOLOSO Vedi sto direttore dell'orchestra e si vede così qua Che impazzito Vaffanculo alla figa Bello E tanto già lo so, dalle cinesi andrò sarà romantico Mettiti il cazzo pulito Fatti un video E tanto già lo so, al nigeriano andrò sarà economico Ohhhh 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 Buon appetito Ok Ok Bell Oh porco di Bello Porco bello Mi prego rompetemi i cosoni con il mio schiacanone Volevo raccontarvi questa Questa è una bellissima storia Sapete che al 261 abbiamo quasi ammazzato uno Davvero A Lucrezia abbiamo ammazzato quasi uno Al 261 è quasi morto Quasi morto Vabbè esagerate Che è successo Praticamente La mia amica è venuta con una sua amica più il suo ragazzo Sono venuti al concerto Poi a un certo punto Sono spariti Perché Vedo la mia amica Sabato scorso e mi fa Eh saremmo venuti a Lucrezia Però l'altra volta il ragazzo della mia amica si stava sentendo male perché è epilettico No Vaiiii Ragazzi a suggerito è millimetrico Guarda Guarda Da minchia Volete fare voi? Se è io avrei Quella gran fantana della È bello fare il fondo di right ulturista faccio Electronic e voglio dire ач bye Prepe 握 Boh, lozzo! Un, due, tre, un pazzo, guardate, Maria! Un, due, tre, un pazzo, guardate, arriva! Seguizzo la mica! Fino! 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 What is wrong? Where's the hope? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti